Signore stavo giocando a just cause 4 comunque non ci faremo una serie perché una serie perché già l'ho fatta no voi dovete capire una cosa questa arma che io ho ora in mano è un'arma molto super rara aspetta che cammino 3 secondi scusate ragazzi ma guardate invece vedete se c'è un po' di gente ciao guardate cioè li trasforma in in mucche in due parole ora non funziona perché sono già diventate perché sono già diventate mucche aspettate un attimo scusate se lo ricordo perché ve lo faccio vedere ecco visto beh è la cosa più strana che non l'ho mai visto che cosa sto vedendo ma se io ora io vado tipo ecco 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 se io ora vado tipo qui se io ora vado in una mucca io sparo questo per diventare mucche succede questo voi vi chiedete chi è sto tizio allora aspettate che lo ammazzo allora chi è sto tizio perché lo conoscesse perché non lo conoscesse aspettate che lo sposto questo qua è il generale non mi ricordo tipo che non non mi ricordo di preciso che generale è questo però mi ricordo che è un generale vabbè faccio vedere la sua faccia perché lo conoscesse scrive sui commenti ciao